e ancora una volta ciao ragazzi e ben ritornati sul nuovo video raga io ho giocato una partita e siamo a robin raga proviamolo insieme che io non l'ho ancora provato senza di voi ecco raga raga sto facendo tutta la serie di di questo gioco però poi ritorneremo su su granni e anche evil noon però raga spero che vi è piaciuta la precedente puntata di evil noon no ecco raga vediamo che abbiamo no ancora uno rifacciamo però c'è ho capito ma c'è le aree delusare ma cosa gli serve prenderne un amistadio e perché quando la prende allora io sto dicendo no 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 Se ti dà una terapia, devi dare il suo cuore. Sempre 10 minuti. Quando l'ho fatto, c'è un mare di gente. Ho l'impevazione alla visita. Non dà 5 partiti gli altri giorni. Se poi gli occhi hanno 2 sentiti altri esami. Sì. Allora, dice che non moriva. Allora, allora, allora. No. Ecco. Sisto. 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 Vediamo che abbiamo. Un cattivo. Ecco. Ecco. Però lo proveremo la prossima volta, raga. Per oggi è tutto, raga. Dammi le stendini. Out. Not a dopo. Troppo. E' tutto. Adesso.